Buongiorno, benvenuti al nostro OTG del mattino. In apertura all'andamento della pandemia con i numeri che restano ancora molto alti, anche se la curva del contagio continua lentamente a scendere. Ci sono due nuovi decessi, mentre il responsabile del Comitato Tecnico Scientifico del Molise, Giancarlo Ripabelli, ha chiesto di resettare il tracciamento dei contagi, i dettagli e i numeri nel servizio di Alessandra Potena. La curva del contagio, seppure lentamente, continua a scendere. I numeri tuttavia restano impressionanti rispetto ai mesi scorsi. Dall'ultimo bollettino sono emersi 392 nuovi casi, dei quali 66 rilevati dai tamponi molecolari e 326 da quelli antigenici. In totale i test eseguiti sono stati 2781. Il tasso di positività è ora al 14%. Sono invece quasi raddoppiati i ricoveri in ospedale, soprattutto quelli della categoria degli anziano-fragili, gli over 65, cioè con sintomi meno gravi rispetto a quelli destinati al reparto di malattie infettive o di terapia intensiva. Il reparto al quinto piano del Cardarelli, destinato proprio agli anziano-fragili, è ora occupato da 13 pazienti. Il tasso di occupazione dell'area critica invece resta tra i più bassi in Italia. Il totale dei ricoverati in ospedale a Campobasso è di 44 persone. Ci sono stati altri due decessi, due uomini di 87 e 83 anni, di Larino e Termoli. Il totale delle vittime da Covid in Molise è ora salito a 526. Gli attualmente positivi sono 9.416. Intanto, secondo il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Molise, Giancarlo Ripabelli, sarebbe opportuno semplificare il sistema a colori delle zone di rischio, ma non eliminarlo. L'attuale sistema di tracciamento dei contagi, ha detto Ripabelli, dovrebbe essere resettato, ma essendo cauti su eventuali modifica i meccanismi delle quarantene e degli isolamenti nelle scuole. Il punto di riferimento per qualsiasi decisione ha comunque chiarito Ripabelli, deve essere sempre più il tasso di copertura vaccinale. Cinque medici del Basso Molise sono stati prosciolti dal giudice del Tribunale di Larino dall'accusa di truffa ai danni dell'ASREM. Per il giudice il fatto non sussiste. I medici finirono in un'indagine condotta dai carabinieri del NAS per aver prestato aiuto quali volontari fuori dall'orario ospedaliero alle associazioni Avis e Fratres che si prodigano nella raccolta di sangue ed emoderivati. I medici alla sbarra, ha scritto l'avvocato penalista Antonio De Michele sulla sua pagina Facebook, erano tutti professionisti che per affinità ideologica avevano scelto di impiegare buona parte del proprio tempo libero per svolgere attività di supporto alle associazioni impegnate nella raccolta del sangue senza, tra l'altro, chiedere e ottenere compensi. Con l'accusa di bancarotta fraudolenta è stato arrestato l'imprenditore molisano Camillo Colella. I suoi legali si dicono certi che presto potrà tornare in libertà dopo aver chiarito la propria posizione. Sentiamo Valeria Migliore. Camillo Colella è stato arrestato con l'accusa di bancarotta fraudolenta. L'indagine è relativa al fallimento della società immobiliare Como SRL, facente capo all'imprenditore Isernino. La misura cautelare è stata firmata dal GIP di Roma Massimo Marasca ed eseguita questa mattina all'alba dalla Guardia di Finanza di Isernia. Il provvedimento di bancarotta fraudolenta sarebbe tuttora oggetto di un ricorso in Cassazione in quanto impugnato tramite i suoi legali. Il suo avvocato Alessandro Diddi per questo motivo parla di una misura sproporzionata e si dice sicuro che in pochi giorni Camillo Colella tornerà libero. Intanto l'imprenditore è recluso nel carcere di Isernia in attesa del ricorso al tribunale del riesame che dovrà decidere se la misura restrittiva sia giustificata pure in mancanza della decisione della Cassazione su una bancarotta che, sostanzialmente, ancora non è stata sancita da una sentenza passata in giudicato. Infine, sempre il giudice Marasca ha disposto il sequestro di 71 milioni di beni dell'imprenditore nella disponibilità di tre società collegate per il magistrato allo stesso Camillo Colella. Dopo le denunce degli edili sui ritardi nell'assegnazione dei fondi della ricostruzione sismica 2002 il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, ha depositato un'interrogazione per chiedere spiegazioni al presidente Toma sul tavolo anche i servizi minimi del piano dei trasporti. Sentiamo cosa ha risposto a Giovanni Di Tota in questa intervista. Il piano del trasporto pubblico è stato da sempre uno degli argomenti spinosi del Consiglio regionale anche per via della capillarità del servizio e della difficoltà di raggiungere i nostri territori. Con i servizi minimi a che punto siamo e qual è la presa di posizione del PD? C'è stata una prima riunione con i sindaci da parte dell'assessore e della giunta regionale che ha visto tutti i nodi, tutti gli schieramenti di tutti i sindaci all'indirizzo regionale perché il piano dei servizi minimi non è chiaro. I sindaci non sanno se ulteriori tratte vengono tagliate ed è per quello che noi abbiamo lanciato l'allarme ed è per quello che la giunta e Quintino Pallante in modo particolare si è fermato per ascoltare il territorio. Oggi deve tornare a discutere con i sindaci una proposta più chiara e che potenzi i servizi territoriali. Certo le corse che non servono vanno eliminate ma tutto questo va fatto in concertazione col partenariato economico e sociale con i sindacati, con i territori e anche se tecnicamente il Consiglio regionale potrebbe non essere direttamente l'organo decidente con il confronto politico, con le forze politiche solo così il metodo corretto porta a un risultato utile per i cittadini e per i lavoratori per chi cioè svolge il servizio. Il gruppo del Partito Democratico, il gruppo consigliare rappresentato da lei in Consiglio regionale ha presentato anche una interrogazione sulla situazione del pagamento che ha avuto alle imprese dei soldi relativi alla ricostruzione del terremoto 2002. Sono passati vent'anni, la ricostruzione tra l'altro non è neanche completata e le imprese sono ancora alcune alla canna del gas. Le imprese di lì hanno ragione. La mia interrogazione sostanzialmente si mette dalla loro parte perché è paradossale che sia passato tutto questo tempo per capire dove è stato fatto, dove non è stato fatto in regione rispetto alla protezione civile, rispetto alle procedure e dove sono stati i nodi. Abbiamo visto di recente anche i geologi che hanno lanciato l'allarme sulla microzonazione. Ci sono troppi errori e alla fine le imprese non vengono pagate e purtroppo neanche i lavoratori. Questo non va bene e ora di chiudere quella stagione con delle certezze finanziarie. E questa sera l'appuntamento alle 21 con ingresso libero tema della puntata all'elezione del Capo dello Stato con collegamenti da Roma. Si parlerà anche della viabilità regionale con particolare riferimento alla Fresilia e all'Otto Zero. In studio con Giovanni Di Tota, il presidente della provincia di Isernia, Alfredo Ricci, il portavoce del comitato Fresilia, Nicola Messere e il presidente dei costruttori dell'Ace, Mance, Corrado Di Niro. L'appuntamento con ingresso libero dunque. Alle 21 questa sera su Telemolise. È tutto per il nostro Tg del mattino. Adesso la rassegna stampa. Con Giovanni Spina in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it. Covid, nell'ultimo bollettino due decessi e quasi 400 nuovi positivi. Bancarotta fraudolenta, arrestato Camillo Colella. Poi 200 tonnellate di rifiuti dalla Campania al Molise. Tre le persone denunciate. Poggio Sannita non ricorda il giorno della memoria. Palomba dice ancora una volta silenzio. Accusati di truffo ha prosciolti cinque medici del Basso Molise. Fondo per la non autosufficienza all'ambito territoriale e sociale di Campobasso ha pubblicato l'avviso per servizi e azioni rivolte a persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio. Baby Gang, la garante per l'infanzia, Leontina Lanciano, dice potenziare le attività di sensibilizzazione. Sisma del 2002, la Fanelli interroga Toma sui pagamenti alle imprese. Interventi chirurgici sbagliati su una donna di Trivento, Asrem e ospedale di San Giovanni Rotondo, condannati a risarcire. Giorno della memoria, il sindaco di Agnone Saia dice ricordo è fondamentale contro negazionismo e fake news. Furti nell'Isernino, sei malviventi nella rete dell'arma, morte in corsia, primario è stato rinviato a giudizio. E poi sempre per il giorno della memoria il governatore Toma ha detto ricordare per attualizzare. Ci sono poi tutte le altre notizie sul giornale del molise.it. Vediamo adesso come titola primo piano Molise, il quotidiano del Molise. Covid, altri due decessi e quattro nuovi ricoveri. Il totale dei pazienti assistiti al Cardarelli sale a 44. Tre quelli curati in terapia intensiva, accertati 392 contagi e 266 guariti. Il tasso è al 14%. Colori delle regioni ripabelli. dice va bene una rimodulazione ma sarebbe un errore eliminarli. Poi ancora le altre notizie. Bancarotta milionari ha arrestato il patron delle acque minerali. Camillo Colella indagato dalla Procura di Roma, sequestrati beni per 71 milioni di euro. Venafro, PM10, inquinamento, 11 sforamenti in 16 giorni e tutto tace. Governatore, il gradimento dei molisani, Michela Fanelli, non ha rivali. E poi Campobasso, Baby Gang, il questore alle famiglie, controllate i vostri figli. Questo l'appello. Poi ancora altre notizie. Il capo dello Stato, quarta fumata nera, Toma, oggi Mattarella, Bis o Draghi. Secondo Micone, più probabile la rielezione del presidente uscente. Il punto di Luca Colella, Di Maio, Federico e le bollette di Gas ed Enel. Poi ancora da Trivento, paraplegica dopo l'intervento. Asrem e Casa Sollievo condannate a risarcire la donna con 625 mila euro. San Martino in Pensilis, le mani della malavita campana sul Molise. 200 tonnellate di rifiuti speciali a cielo aperto. Per quanto riguarda le altre notizie, quelle di sport. Per la Serie C, Lupi si punta al successo per la salvezza. Attiva la prevendita dei biglietti. Vasto Girardi, Alto Molisani, al lavoro per preparare la sfida al Castelfidardo. Per il calcio al 5, il CLN Cussi infila la vittoria contro la Lazio e accede alla Coppa Italia. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo con la Repubblica e ovviamente la notizia in evidenza è quella dell'elezione del Presidente della Repubblica. La sfida dunque per il Quirinale. Il Colle dei Vetti incrociati è il titolo. Nulla di fatto al quarto scrutinio. Il centrodestra oggi si conta scegliendo un nome di area. Il leader leghista torna su Casellati o Nordio. Sospetti tra i demme nei 5 Stelle di un patto tra Conte e Salvini per andare alle elezioni. Cresce l'ipotesi del bis per Mattarella. Ieri ha ottenuto 166 voti. Disgelo tra il Premier e Forza Italia. Draghi telefona a Berlusconi in ospedale. Ci sono poi vari commenti con il casting del Presidente, scrive Francesco Beia. Il palazzo lontano dal paese è l'analisi di Carlo Galli. Poi ci sono ancora le altre notizie dal mondo. Il fronte part-time difendo l'Ucraina tra pizze e mitra, scrive Paolo Brera. L'inviato, poi la grande crisi che l'Italia non vede. I musei più importanti di Parigi si inchinano a Saint-Laurent. E' dunque uno degli abiti in mostra di Saint-Laurent al centro Pompidou. Dalla Repubblica passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Centrodestra la carta Casellati. Il titolo, prima scelta in alternativa a Nordio dopo lo scontro sui candidati. Poi si va su Casinio, Draghi. Dunque la corsa al Colle tramontata Belloni, Lira di Letta e Di Maio su Salvini. Tra il Premier e Berlusconi la telefonata del disgelo. E poi anche qui diversi gli approfondimenti. Poi legge burocrazia. Perché la scuola non deve essere luogo di controllo ed omologazione, scrive Ernesto Galli della Loggia. E poi il Ho scoperto una stella, niente è così luminoso. L'astronoma australiana all'inizio pensavo a un errore. Così parla della nuova scoperta. Natasha Harley-Walker della Curtin University. C'è qui l'illustrazione artistica appunto della stella. Vediamo adesso come titola invece Libero. Quirinale e Covid arriva prima la pillola del nuovo presidente. L'EMA autorizza il farmaco Pfizer. Il primo ad uso domiciliare abbatte il virus del 90%. Il centrodestra per il Colle punta su Casellati. Ocasini, Sergio in cassa voti e tace. Mattarella ancora tu, non dovevano votarti più, scrive Renato Farina. E poi ancora per merito di Super Mario ci tagliano i fondi dell'Unione Europea. Bruxelles il PIL va molto bene, va ridotto il PNRR. Siamo alla follia, scrive Sandro Iacometti. Passiamo adesso a vedere come titola il Fatto Quotidiano. Salvini torna al Papete. Altro che Kingmaker, Quirinale, voto bloccato dalle Salvinate. Aggiunge poi dopo altri nomi. Non esclude più la resa a Draghi. Chi chiama Berlusconi riceve Tajani. Il derby diplomatico con Belloni. Poi ci sono tutti gli altri approfondimenti. Green Pass, un loop per nulla scientifico. È un titolo in virgolettato. Carta Bellotta, ci siamo incartati, dice. Poi Stalker subito fuori e l'effetto cartabbia appena arrestato. PM, legge da rifare. Dal Fatto Quotidiano passiamo adesso a vedere il tempo. Infilzato, un candidato all'ora. Cade anche la possibilità. Casini, bocciate tutte le proposte avanzate dal centrodestra e sullo sfondo resta Draghi. A sinistra è scheda bianca, troppo divisi per un nome. Poi la pillola Pfizer annulla il contraccettivo. Il nuovo farmaco orale anti-Covid blocca l'effetto anticoncezionale. Vediamo adesso come titola la stampa di Torino Quirinale. Tutti contro tutti. La Lega rilancia Frattini, oggi vota Casellati. Conte apre l'Ira di Letta e Di Maio. Draghi chiama Berlusconi. Diminuiscono le schede bianche. Aumenta il consenso per il presidente in carica. Ma solo nella rosa del centrodestra. E poi spaventa l'Europa. Il bimbo ebreo aggredito a Livorno. Il saluto Papa Brooke nella giornata della memoria. La Shoah è l'ultimo sfregio dei Novax, il caso. Passiamo adesso a vedere come titola il manifesto. Torcicolle. Alla quarta votazione il centrodestra si astiene. Va in minoranza e dalle urne sale la richiesta del Mattarella bis. Salvini non sa più che pescipigliare. Ripropone Frattini già bocciato dal PD e lancia Massolo. Tajani va a colloquio da Draghi. Mentre si continuano a bruciare candidati. Nazismo e ideologia delirante. Il presidente Mattarella nel giorno della memoria. Così nel suo messaggio. Si gira a vuoto. È il titolo in evidenza invece di Avvenire. Salvini annuncia un nome per oggi rispunta Frattini. Letta e Renzi alzano i toni. In pista restano Draghi, Casini, Belloni, Cassese ed entra Massolo. Voti per Mattarella. Russo della CEI va individuata una figura di garanzia per unire il paese. Telefonata Berlusconi. Premier. Shoal Italia fa memoria ma dai Novax arrivano altri sfregi. Poi disabili a scuola senza sostegno nelle regioni del nord. Rischia di restare scoperto l'84% delle cattedre. Covid è ma da il via libera alla pillola antivirale. Calano i ricoveri. Spinta per regole meno rigide. Vediamo adesso il sole 24 ore. Franco. Nuove misure sul caro energia. Politica economica. Il ministro apre all'ipotesi di altri interventi. Evitare blocchi alla produzione. PIL del 2022. Sopra il 4% rischi da Covid. Tensioni globali. Confindustria vede Cingolani. Edilizia Mordi e Fuggi. Nate 11.000 imprese in sei mesi per effetto del super bonus. Il mattino di Napoli. Colle la volata finale. Nuova terna dal centro-destra. Frattini, Nodiletta, Massolo e Cassese. Ma si tratta sempre su Draghi. Ancora Casini. Dopo resta Mattarella. Il Quirinale minuto per minuto. Il Valser impazzito dei nomi tra social, chat e dirette tv. Il vocabolario dei partiti autorevole. Super partes. Le parole per non dire nulla. Il retroscene. Enrico Letta è l'asse che si sposta da Conte a Renzi. Vediamo poi le altre notizie sul secolo d'Italia. Quarto scrutinio. Movimento 5 Stelle sempre più fuori controllo. È il titolo dell'editoriale di Riccardo Angelini. Tagliani tratta con Draghi. Salvini cerca di stringere su Frattini la macchina del fango contro i candidati del centro-destra. Scrive Ginevra Sorrentino. E poi l'orfanello di Casini. Renzi furioso dopo il no a Pierfurbi. La verità. A medici e infermieri guariti è proibito tornare al lavoro. Ospedali senza personale ma prevale la volontà di punire. Molti novax sospesi si sono infettati. Ora hanno il pass. Però regioni e ordini professionali pretendono che si facciano l'iniezione. Per dare l'esempio strategia masochista favorita dalle confuse norme del governo. Scrive ancora la verità. Morta dopo il parto. Ricovero negato perché non vaccinata. L'interrogativo. Poi continua la giostra dei nomi. In aula è il caos. Dopo Casini, Belloni e Cassese. Nel centro-destra spunta. Prima la candidatura a presidente di Frattini. Letta al solito la boccia. Poi quella di Massolo. Salvini promette una soluzione per oggi. Ma la situazione è intricata. E dalla verità passiamo a vedere come titola la gazzetta dello sport. Vlaovic è della Juve. Affare fatto chiuso. L'accordo con l'attaccante serbo. Un super investimento da oltre 150 milioni. Tutto compreso. Oggi sarà a Torino per visite e firme. Dunque questo è il colpo della Juventus. Buffon nell'intervista dice di Bala. Ora deve restare. Che coppia con Dusan Vlaovic. Così l'ex capitano è numero uno della Juventus e della nazionale. Gigi Buffon. Milan-Kuruseski che tentazione ma costa troppo. Castiglia-Eucho verso il Valencia. Pellegrini ecco il Toro. Juric-Milancio punto all'Azzurro. Poi ci sono le altre notizie. Cabrae sfida Piontek. Nuovi gol a Firenze. Murigno su Danilo del Paris Saint-Germain. Da Scamacca che sì. L'Inter li vuole tutti. Il Dortmund offre 45 milioni. Il Bomber sceglie Inzaghi. Battaglia di primavera con la Juve per il Milanista. Intanto un altro colpo. Dopo Gosens. Sbarca Caicedo. Dunque l'Inter scatenata sul mercato. Maggiorini ho pianto per le offese a mia madre. Le lacrime in campo a Lecce. Poi l'esordio in Spagna il 2 febbraio. Nibali ciclismo sì. Io come Ibra e scommetto sul Giro d'Italia. Così dice la Gazzetta. Con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre in diretta alle 14 con il telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito.